Sono state definite le linee guida per il trasporto pubblico locale. Il Comitato Tecnico Scientifico ha accolto pienamente le richieste avanzate dalle regioni, portando dal 50% all'80% la capacità di carico dei mezzi scolastici. Fu mata bianca dunque per uno dei temi collegati alle nuove norme anti-covid. Dopo il terzo tavolo di confronto tra Stato e regioni che si è concluso ieri sera alle ore 21, è stata definita la capienza massima di autobus e treni, nei quali dovranno essere privilegiati i posti a sedere con il rispetto di precise regole per ridurre i rischi di contagio. La mascherina sarà obbligatoria, così come la sanificazione degli ambienti e un adeguato ricambio d'aria. A darci i maggiori dettagli è il direttore generale di Adrebus, Massimo Benedetti. Posti soltanto a sedere o anche in piedi? Sono a sedere e là dove erano autorizzati quelli in piedi c'è quella famosa riduzione del 20%. Faccio l'esempio, tratte e autobus dove erano autorizzati il trasporto di 20 persone in piedi e ce ne possono andare il 20% in meno, quindi 16. Ora, ci spiega il direttore, rimangono da stabilire le soluzioni per il restante 20% di capacità di carico in meno sugli autobus, ma con il nuovo dato sulla capienza massima, ha aggiunto Benedetti, sarà sicuramente più facile rispetto alle precedenti condizioni. A montare il park autobus è un po' complesso perché reperire i mezzi non è molto semplice, anzi impossibile in tempi strettissimi. Naturalmente ci stiamo guardando anche con... non scartiamo nessuna strada. Noi abbiamo dei mezzi da noleggio con conducente che potremo sicuramente utilizzare sui percorsi dedicati agli studenti, abbiamo qualche altro mezzo in dotazione e poi vedremo dove riusciamo ad arrivare. Parlo di autobus, se faccio l'esempio, quelli che si utilizzano per le gite, li dirotteremo per il trasporto pubblico locale.